Facciamo una gara! L'ultimo che arriva è un lumacone! Per cavalcarle dovete prima stabilire un legame con loro. Nel regno della roccia facciamo così con gli animali. Ehi, guarda! Qui, Gorok! Se mi farai salire dividerò con te il mio sloggo! Ehi, lo volevo anch'io lo sloggo! Sono animali e se vuoi che ti rispettino devi mostrargli chi è che comanda! Ok, ok! Sei tu il capo! Scusi tanto, signor amico drago! Pensa di poter volare qui un secondo! Salve! Ehi! Qui o là? O qui? Oh, anche lì! Ragazzi, ecco cosa è successo! Le Hyperbeast sono come noi! Esattamente come noi! No, di sicuro non sono come questo enorme ammasso di pelliccia! Neanch'io sono come lui! Questo è quello che intendeva la torre parlando di connessione! Che non dobbiamo connetterci con loro perché siamo già connessi con loro! Giusto! Ancora affamato? Sì che lo sono! Sì, siamo in sincronia! Perdonami, Cryos! Non mi sono presentato! Io mi chiamo Ikor! Ehi, ho visto che ti piace stare a testa in giù! Piace molto anche a me! Ero troppo emozionato, quindi anche tu lo eri! Scusa! Sei proprio bravo! Posso salire? Ma è fantastico! Amici, Gorm è in pericolo e abbiamo bisogno di voi! Concentriamoci tutti sulla torre degli elementi! Andiamo! Woohoo! Gormiti irraggiungibili Chi mi fermerà? The land is back! The legend is back! Gormiti! Gormiti!